Due tecnici sono stati indagati, interrogati e perquisiti dai carabinieri nei giorni scorsi per la vicenda della microcamera installata nel vano docce femminile dell'ospedale di Empoli. A riportarlo ai quotidiani Repubblica e Tirreno, secondo cui i due avevano accesso alla stanza di servizio dove era installato un monitor collegato via cavo alla microcine presa fissata nel muro della doccia, usata da infermiere e dottoresse dell'ospedale. Sono circa 100 le sanitarie che usufruiscono proprio di quelle docce, in parte si tratta anche di personale assegnato al reparto Covid. Le perquisizioni avrebbero avuto lo scopo di rintracciare materiale video, eventualmente in possesso dei due sospettati. Entrambi risultano manutentori di ditte esterne che lavorano per l'ospedale San Giuseppe. La Procura di Firenze ha aperto un'indagine con l'ipotesi di reato di accesso abusivo al sistema informatico protetto da misure di sicurezza, ma si affaccerebbe anche l'ipotesi di un eventuale caso di revenge porn. La stanza col monitor è accessibile solo a persone autorizzate dipendenti dell'ospedale e di ditte in appalto.